Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Down Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo, PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per scombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubonica. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte. E non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari, o l'intelligenza del nostro dibattere, o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia né dei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Robert Kennedy, discorso pronunciato il 18 marzo del 1968 presso l'Università del Campo.